aria volevo urlare vai vai come no come stai uscendo da non uscire ti prego non uscire dai dai fai il serio fai il serio ti prego giocatore sì ma si sta vagando cosa ci sono dei ricassabesutate vieni qua che trovi delle cesse sottoterra vero andiamoci e ci sono dei tizi guardano di spiega cosa se mi fanno la truffa io ammazzo c'è un tizio qua ammazza ammazza una armi testimoniano l eh non ho armi ne ho io TAlla самые EXPERTEXPER tenete las就是 realize abbru би Natale aiuto panini a salami aspettami ecco però spacca 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 non è un titolo che è ripetito in questo di la mia munizione prenditi la mia munizione c'è una cesta un cesso un cesso un cesso bravo un po 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 anche la pistolina c'è un tizio un bello sotto dove no è lontananza segno delle spalle in lontananza una pistola senza spari anche se spari lontananza un bau l'ho tantico d'antico a mai oggi c'è l'ombra e spari 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 c'è qualcuno qua vieni qua fammi da guardia e la sotto nasconditi qua ci vado io appena rientro ferma sei ferma là dentro ok non ti preoccupare ci sono io silenzio silenzio da bene le lacce l'ho ucciso aspetta 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 ferma dei pesciolini non mi servono fammi saluta saluta o sceldino io non scendo le sento sparare non ti preoccupare ci sono io dove sei tu quasi con il tavolo ci sono persone vicino a me e mi vedo voglio cantare la mia felicità 5 6 7 cucu 7 c'era e un boy di casette cucu 7 cosa cucu 7 canzette canzette calzone calzette 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 ti piace questa canzone ma sono un paura vabbè mi ci tuffo qua 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 ho preso delle cose ci sono delle volte guarda sangue c'è il cedino ccd e qua spettaccio sì ma siamo fuori dalla safety dobbiamo andare io scopo e dobbiamo andare cori cori scappa scappa c'è il nemesis retus c'è il nemesis ma andiamo un sito in sia tu anzi e tu anzi tu anzi ma dobbiamo prenderci la nave la specie di nave faccio una nave la specie di non aspetta l'accio se l'attimo e se mi vengono in giro per i dico aspetta ora voglio vedere no no gabry che c'è prendi lo vedo questo a me ne ho palla sì ma ce l'ha sento comunque sta arrivando voglio morire dove la nave non la vedo eccola qua spiega di spiega di vieni con me se vuoi vivere solo con me premo solo un tasto dove si ci va ma lei l'ha pagato il palchimetro vabbè si vada ci vado questi sono un bagno non ti preoccupare non parlare laרca la macchina della polizia no 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 ma continua ma non ci tiro vai 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 andiamo 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 Можетiamo uralmente non c'è qualcuno lo ammazzo si si io lo sono c'è qualcuno però non scende, non scende, stai dentro la macchina non sa fornita a me, non c'è scendente, no dai ne ho fesso, aspetta qua, sparagli, sparagli, spara, sparagli, sparagli spiegati che ci sono un gioco di luce spiegati che c'è la set qua e qua e lotte vicino a te mamma mia siamo forti se bravissima comunque prima quando c'era quella la gava tantissimo facciamo la salita della grande montagna dell'everest sono cecchino da un un cecchino saliamo 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 sali sali che hanno un cecchino sali sali vieni qua vieni qua non lo so però stai qua con me io ho creato un sacco di cose minchia lo sanno vedi se c'è io sto trattando un sacco di cose si si stai andando stai andando stai andando dov'è ci prendiamo l'elicottero se c'è qua sopra qua sopra l'elicottero si spara gliel'elicottero sono in due non lo so sono qua sopra sono qua qua ci ho dato un po' di vita vai 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 eh sono morto spara spara gliel'elicottero e vabbè ma chi sono quelli avevo fatto un dono di vita vabbè dai stacchiamo adesso mi cazzo mi cazzo